Passeggiando al lungomar, mentre cala l'imbrunir, vado al bar e vedo che i bassotti bevono tè. Entra in scena Paperone, fa un sospiro d'anfitrione, non sapete le sue imprese, ve le dico labbra attese. Ma che bella compagnia questa nuova, questa mia, questa storia è una burgia, sembra proprio una mania. Ma che bella compagnia questa nuova, questa mia, questa storia è una burgia, sembra proprio una mania. E la storia tutti sanno, si risolve con l'inganno. Anfitrione fu esiliato, ed a morte condannato. Al cospetto della gente, era un santo innocente. Ma anfitrione se ne andò, e la donna si portò. Ma che bella compagnia questa nuova, questa mia, questa storia è una burgia, sembra proprio una mania. Ma che bella compagnia questa nuova, questa mia, questa storia è una burgia, sembra proprio una mania. Condannato, condannato, anfitrione fu esiliato. Condannato, condannato, anfitrione liberato. Ma che bella compagnia questa nuova, questa mia, questa storia è una burgia, sembra proprio una mania. Ma che bella compagnia questa nuova, questa mia, questa storia è una burgia, sembra proprio una mania.